laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e per luigi bianchi cagliesi vi parla oggi 20 maggio 2021 per il nostro commento del giorno la trasmissione di oggi l'ho intitolata signore mostraci i nostri compromessi è un problema vedete questo molto importante che ci dobbiamo porre tutti tutti nessuno escluso in questo passaggio decisivo che ci avvicina sempre di più alla resa dei conti finale in avvicinamento poi al trionfo del cuore immacolato di maria sappiamo che il trionfo del cuore immacolato di maria dischiuderà un'epoca di qualcosa di talmente straordinario e meraviglioso che delineerà proprio questa nascita e questo sviluppo della civiltà cristiana che non possiamo neanche immaginare tanto siamo immersi in questo oceano di iniquità di nefandezze di orrori che costituisce proprio la nostra vita e cui molte persone purtroppo si stanno abituando come se fosse una situazione abbastanza normale ma vedete che in questo passaggio dicevamo definitivo e conclusivo tutti noi dobbiamo fare un serio esame di coscienza abbiamo la necessità soprattutto di capire quali sono ancora i legacci compromessi che ci legano a delle situazioni che in ogni caso si devono si dovranno risolvere perché se non le risolveremo noi con un'azione diciamo di esame di coscienza profondo e anche di revisione della nostra vita lo farà lo faranno i fatti stessi lo farà il signore stesso in un contesto sicuramente meno tranquillo e meno facile di quello presente dicevo che l'operazione più importante da compiere ciascuno di noi è proprio quella di chiedere al signore attraverso l'intercessione dell'immacolata vergine maria corredentrice proprio quella di individuare in noi stessi quali sono i punti di compromesso che ci legano a delle situazioni non buone da cui dobbiamo liberarci perché non possiamo raggiungere la piena libertà e quindi corrispondere pienamente alla volontà di dio e alla sua grazia se non siamo in grado di individuare gli ultimi lacci che ci legano a delle situazioni che non sono evidentemente gradite al signore che devono essere sciolte devono essere liberate sono nodi che devono essere in qualche modo dipanati ebbene cari amici vedete come nelle ultime lettere molto impressionanti molto chiare e anche molto lucide scritte da sua eccellenza monsignor viganò lui spesso se qualcuno di voi l'avrà notato ci indica proprio questa strada e questa necessità di attuare nelle nostre anime una vera e profonda conversione dice proprio in un ultimo documento monsignor viganò che se noi torneremo a cristo iniziando dai noi stessi dalle nostre famiglie riusciremo non solo ad aprire gli occhi per comprendere l'assurdità di quanto avviene intorno a noi e quindi vedete no se il ritorno a dio che implica lo scioglimento di nodi e compromessi apre anche gli occhi svela quella dimensione reale di gravità della situazione in cui stiamo vivendo che in altri altrimenti con questi compromessi riusciamo a intravedere parzialmente o addirittura non vedere quindi dice monsignor viganò se noi torneremo a cristo con noi stessi e le nostre famiglie riusciremo non solo ad aprire gli occhi per comprendere l'assurdità di quanto avviene intorno a noi ma sapremo anche combattere efficacemente con le armi invincibili della fede vedete no quindi il nostro combattimento efficace in questo momento passa per la nostra conversione perché dice monsignor viganò tutto quello che è nato da dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede allora la nuova torre di babele il castello di carte del cori della farsa dei vaccini la frode del grande reset crolleranno inesorabilmente manifestando nella sua natura diabolica il piano omicida dell'avversario e dei suoi servi e quindi considerando anche quest'ultimo punto possiamo dire che l'accelerazione del crollo di questo piano inferma infernale che oggi si manifesta nella sua natura diabolica vedete tanto più noi corrisponderemo le grazie di dio e ci convertiremo profondamente tanto più accelererà il suo disfacimento finale quindi l'accelerazione verso la fine di questo piano infernale passa indubbiamente per la nostra conversione e parlare di nostra conversione può sembrare qualcosa di così generico che tutti accettano e chi è che dice chi è consapevole oggi di quello che sta accadendo che cerca di combattere per i diritti di dio chi è che non afferma che è necessario convertirsi ma questa non deve rimanere un'affermazione generica deve invece trasformarsi in qualche cosa che ci aiuti veramente a intravedere con l'aiuto della santa vergine quali sono i punti deboli che ancora ci legano a delle situazioni di compromesso e vedete quante volte abbiamo parlato di queste situazioni di compromesso di cui tutti siamo in qualche modo infettati e vittime perché i compromessi possono essere molteplici possono essere determinati da attaccamenti alle cose materiali da alcuni attaccamenti disordinati anche sul piano degli affetti umani un attaccamento sul piano delle relazioni anche noi abbiamo con il nostro prossimo un attaccamento che si manifesta delle posizioni che abbiamo in qualche modo costruito negli anni e da cui non siamo in grado di liberarci un attaccamento anche alle cose a cui in qualche modo diamo un'importanza come possono essere l'utilizzo di strumenti che in questo momento ci sembrano indispensabili dei social dei mezzi di comunicazione tutto naturalmente per il bene tutto finalizzato al bene ma che possono diventare un motivo diciamo di retrocessione sul piano spirituale se questo diciamo amore per ciò che noi facciamo diventa assolutamente smodato e disordinato e quindi vedete che per accelerare il trionfo del cuore immacolato di maria si deve passare per questa azione molto radicale di così allontanamento e di interruzione da questo spirito di compromesso e se noi in questo momento non siamo in grado di intravedere nelle nostre anime nelle nostre vite questi compromessi allora dobbiamo chiedere alla santissima vergine di mostrarceli e di aiutarci una volta individuati ad estirpare tutte queste contraddizioni che in questo momento ci regano pericolosamente a delle situazioni che non ci fanno del bene non ci giovano sul piano umano quindi l'opera diciamo per affrettare il trionfo del cuore immacolato di maria inizia direttamente da noi smettiamo quindi di guardare quello che fanno gli altri smettiamo di individuare diciamo i difetti del nostro prossimo anche se abbiamo il dovere di individuare il male che si radica nella nostra società e attraverso l'azione anche delle persone che dobbiamo ben capire quindi vanno individuate le azioni malvagie vanno esecrate però dobbiamo smettere di fare invece la critica continua del nostro prossimo e concentrare in questo momento la nostra attenzione su noi stessi perché nessuno di noi è immune da questo spirito di compromesso e ciascuno di noi deve fare un'azione radicale feroce direi nei confronti di noi stessi per estirpare il male che si radica profondamente nascostamente nei meandri delle nostre anime noi se non riusciamo cari amici a individuare questo male che si radica in noi dobbiamo allora chiedere perché non siamo giusti e non siamo santi dobbiamo chiedere appunto la santissima vergine di concederci questa grazia di individuare lo spirito di compromesso che si annida in ciascuno di noi ciascuno di noi è vittima di compromessi e ciascuno di noi deve individuarli perché questo passaggio in questo momento si rende assolutamente indispensabile l'opera inizia da noi smettiamo di guardare gli altri il problema di fronte a dio in questo momento per coloro soprattutto che combattono in prima linea siamo noi stessi questa è l'azione fondamentale che dobbiamo compiere cari amici dei radioascoltatori chiediamo quindi l'aiuto della santissima vergine mettiamoci al lavoro e se non intravediamo in noi compromessi o cedimenti che comunque ci sono chiediamo l'intercessione potentissima della santissima vergine per mostrarceli chiediamogli ogni giorno chiediamo con fede con umiltà con sincerità perché abbiamo bisogno di mettere mano alle ultime cose che ci regano ancora purtroppo a degli attaccamenti che non sono graditi al signore e concludo la nostra trasmissione di oggi con l'ultima parte della bellissima supplica di monsignor viganò scritta per essere recitata soprattutto in questo periodo il termine del santo rosario in cui dice parlando la santissima vergine voi dinanzi alla quale fuggono i demoni dell'inferno sbaragliate i piani diabolici di questa odiosa tirannide l'inganno della pandemia la menzogna degli operatori di iniquità fate rifulgere la luce della verità sulla menzogna come splende la luce vera di cristo sulle tenebre dell'errore del peccato confondete i vostri nemici e umiliate sotto il vostro piede il capo superbo di chi osa sfidare il cielo e vuole instaurare il regno dell'anticristo voi che per divino decreto siete mediatrice di tutte le grazie e nostra corredentrice ottenete per noi la grazia di veder trionfare il nostro cuore immacolato al quale consacriamo noi stessi le nostre famiglie le nostre comunità la santa chiesa la nostra patria il mondo intero così sia in quest'opera di rimozione dei nostri compromessi e delle nostre diciamo iniquità nascoste cari amici auguro a tutti voi una santa giornata laudetur jesus christus grazie a tutti 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 Grazie.